Da lunedì in campagna resteranno chiuse tutte le scuole. A comunicarlo durante la consueta diretta del venerdì il governatore Vincenzo De Luca a preoccupare soprattutto la variante inglese del covid riscontrata anche in campagna. Penso che non bisogna attendere altro per prendere questa decisione. Il commento del presidente lo stop alle elezioni in presenza partirà dal primo marzo e proseguirà almeno per due settimane. Quel tempo, dice De Luca, lo impiegheremo per vaccinare tutto il personale scolastico. Vi comunico ovviamente che noi da lunedì chiudiamo tutte le scuole. Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza di variante inglese. Credo abbiamo registrato sui positivi almeno sei casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia una epidemia diffusa di covid anche fra i ragazzi di 10, 15, 18 anni. Con buona pace di qualche comitato che è sempre pronto a fare ricorsi ai tribunali amministrativi. Siamo arrivati ad avere i casi. Nelle scuole la particolarità delle varianti è che hanno un'aggressività maggiore in generale sulla popolazione, ma in particolare sulla popolazione giovanile. Questo è l'elemento che deve preoccuparci. Da lunedì si chiudono tutte le scuole. Dobbiamo utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico. Sui vaccini De Luca continua a lamentare i ritardi. Dobbiamo arrivare alle forze armate e alle fasce deboli, dice. Siamo al corrente di tutto ma non ci sono i vaccini. Per questo motivo stiamo provando ad acquistarli anche all'estero. Forse ci saranno novità la prossima settimana. Ma preoccupare sono soprattutto i numeri dei nuovi positivi. Se l'onda del contagio non verrà frenata, dice De Luca, sarà necessario per accogliere tutti i pazienti, chiudere di nuovo i reparti ordinari. Per un verso stiamo cercando di reggere sulle terapie intensive e sulle degenze ordinarie. Vediamo di capirci. Se abbiamo 2000 positivi al giorno, noi rischiamo nel giro di due settimane di avere la saturazione dei posti letto di terapia intensiva, oggi disponibili, e la saturazione dei posti letto di degenza ordinaria o subintensiva nei nostri ospedali. È evidente che se non viene frenata l'onda del contagio, tu devi chiudere altri reparti, quelli ordinari, per accogliere i pazienti o per ampliare i posti di terapia intensiva. Noi vogliamo evitare di chiudere altri reparti, perché non si muore solo di Covid.